14 proposte selezionate per realizzare dei progetti innovativi nel settore del turismo esperenziale in provincia dell'Aquila. La fondazione Carispac, che ha promosso e finanziato con 200 mila euro l'iniziativa con la Fonda Q, società strumentale della fondazione, dopo il bando che ha visto l'arrivo di ben 33 domande, ha presentato le proposte selezionate che permetteranno di avviare iniziative turistiche nei piccoli centri dell'Aquilano e della Marsica. Si tratta di progetti turistici che valorizzano aspetti unici ed irripetibili del territorio e dei territori che prendono in considerazione. Ci sono le grotte, la montagna, gli altipiani, l'arte e l'antropologia, c'è il cine turismo e l'enogastronomia, le tradizioni, il folklore e il patrimonio culturale. Sono stati finanziati progetti che prevedono la realizzazione di pacchetti turistici in grado di raccontare in maniera inedita il territorio e le sue peculiarità, con l'obiettivo di offrire al visitatore un'esperienza nuova e indimenticabile a contatto con i luoghi e le comunità. La valorizzazione a cui punta il progetto è di diffusione nazionale. In questo senso è rilevante la partecipazione di un raggruppamento con capofila l'associazione Bike 99, a cui partecipa anche l'associazione Sciattori. I maggiori nomi dello spettacolo italiano saranno accompagnatori d'eccellenza nei tour alla scoperta del territorio. Scenario Abruzzo, la tua esperienza turistica da protagonista è lo slogan degli attori. In sostanza gli attori cosa faranno? Metteranno a disposizione la loro professionalità, la loro passione a favore di un territorio che ci ha letteralmente conquistato ormai da anni. L'associazione può aiutare il territorio a diffondere a livello nazionale ma anche a livello internazionale queste eccellenze partendo proprio da questa forma di turismo esperenziale. Turismo esperenziale. L'Abruzzo è un territorio che ci ha conquistato, ha conquistato il nostro cuore, noi sentiamo qui la nostra casa, tanto che infatti abbiamo messo base, base per gli allenamenti, per le gare, per la partenza proprio del Sciattori. Quindi a proposito di partenza aspettiamo di partire con voi per muovere i primi passi per questo progetto e il prossimo passo che vorremmo fare è proprio su un sentiero dell'Abruzzo per arrivare ad un luogo meraviglioso che questa regione ci offre. Tutti i progetti selezionati sono incentrati sul concetto di innovazione non solo per le idee in sé ma anche per il modello di promozione e comunicazione che attuano basato su moderne tecnologie. Le proposte scelte presentano tra le priorità la valorizzazione delle infrastrutture e delle filiere turistiche esistenti nei territori andando così a incidere direttamente sullo sviluppo.